Oggi è caldo, è estate, come dice la nonna tra poco però è Natale. Cosa è che succede a Natale? Anzi, il 23 dicembre si rompe il PC del capo e il PC del capo è vitale ovviamente perché lui alle 7 di sera deve mandare una relazione importantissima, improcrastinabile. Per me queste cose sono un po' da preistoria dell'informatica. Insomma abbiamo virtualizzato tutto, abbiamo i server in alta affidabilità, backup, disaster recovery eccetera. Ma perché i PC devono creare ancora tutti questi problemi? Se fossero come i server, cioè in altissima affidabilità saremmo a posto. Questa cosa esiste, si chiama virtual desktop. Col virtual desktop il capo alle 7 di sera gli si rompesse anche il PC, si alza, si va a sedere da un'altra parte in un portatile, nel PC di un collega e lui riceve esattamente il suo desktop con i suoi programmi, le sue icone, esattamente come li ha lasciati il giorno prima. Virtual desktop è una soluzione che risolve questo e tanti altri problemi. Se vi registrate su Server Lab vi raccontiamo altre storie di questo tipo. Grazie per la visione!